buongiorno a tutti e bentrovati a questo video tutorial per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria 2022 2023 ricordiamo che i termini per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria per i docenti e fissato da oggi 20 di giugno 2022 al 4 di luglio 2022 appunto si va sulle istanze online alla pagina istanze e si va a compilare vai alla compilazione dell'istanza presentazione domanda di mobilità in organico di fatto cliccando su questa vai alla compilazione si entra in una pagina in cui si c'è un'informativa sulla privacy si fa si clicca necessariamente ho letto e accetto i termini e le condizioni legali e poi si fa avanti avendo fatto appunto avanti si entra nella pagina della anagrafica del docente candidato all'assegnazione provvisoria facendo nuovamente avanti si entra in questa schermata proprio utile per la presentazione delle domande di mobilità in organico di fatto del personale docente per l'anno scolastico 2022 2023 si va a selezionare tra le domande disponibili quella di vostro riferimento per esempio se siete titolari in scuola di secondo grado dovreste fare scuola di secondo grado proprio per avere poi le varie opzioni assegnazione provvisoria e per cui sceglierete la provincia l'utilizzazione provinciale e la utilizzazione interprovinciale in questo video tutorial ci occuperemo dell'assegnazione provvisoria per una data provincia ammettiamo che se vogliamo fare l'assegnazione provvisoria nella provincia di catania e dunque si sceglie catania e si fa inserisci la domanda ecco che la domanda di fatto viene inserita al sistema dopodiché si deve intervenire compilando il riferimento delle sezioni utili alla domanda vedete abbiamo una domanda abbiamo le preferenze e abbiamo gli allegati per cui dobbiamo andare a compilare le varie sezioni se si hanno precedenze si compila la sezione d se non si hanno e chiaramente non è una sezione obbligatoria non si compila facciamo l'esempio della compilazione della sezione f esigenze di famiglia si clicca su questo ed ecco che escono dei numeri 16 17 18 19 che sono i quattro numeri di riferimento per queste esigenze per esempio c'è il ricongiungimento si deve scegliere il comune di ricongiungimento se per esempio il comune di ricongiungimento per esempio e catania si clicca e si seleziona catania vuol dire che nel comune di catania si avranno i sei punti per il ricongiungimento al conge poi si avranno molto importante il numero 17 il numero 18 il numero dei figli di età inferiore ai sei anni questo costituisce tra l'altro anche una precedenza cioè la precedenza di avere figli inferiore ai sei anni però questo va ammesso appunto per adesso per dire quanti figli si hanno se per esempio uno ha un figlio di età inferiore ai sei anni metterà uno se ha un altro figlio per esempio di età superiore ai sei anni ma non superiore ai 18 metterà uno e avrà così due figli il numero 19 poco usato per la verità si riferisce al comune dove possono essere assistiti il coniuge o i figli minorato e tossicodipendenti questa si riferisce esclusivamente se si ha per esempio un coniuge da seguire che magari ricoverato in una casa di cura e ha bisogno dell'assistenza ecco speriamo che questo video tutorial per questa parte per questa sezione sia utile ai nostri telespettatori continueremo anche a fare altri video tutorial per orientare a presentare al meglio la domanda grazie a tutti e a rivederci grazie a tutti